Storie di fantasia di Marchigno Cappo The Nature Woman Questa è la storia di Jessica Parker, famosa scienziata proprietaria del celebre istituto di ricerca per il miglioramento delle capacità umane. La dottoressa stava recentemente lavorando a una prodigiosa formula che avrebbe permesso al corpo umano di adattarsi a ogni condizione ambientale, dal caldo torrido del deserto al freddo gelido del polo nord. I corpi che la dottoressa cercava di creare sarebbero stati in grado di comunicare con ogni tipo di animale o altro essere della natura. Proprio mentre consultava i suoi appunti, Jessica notò che il gatto era entrato nel laboratorio e stava giocherellando con le prese elettriche dei vari macchinari. A quel punto gridò, Figaro, ti ho già detto di non entrare nel mio laboratorio, per te può essere molto pericoloso. Ora te ne starai nella tua gabbia, almeno li sarai al sicuro. Mise il gatto nella gabbietta e lo accarezzò concludendo la sgridata con un dolce, ti voglio bene. Allora si girò di scatto e senza accorgersene versò la sostanza a cui stava lavorando sul camice, che scivolò fino alla mano. Arrivò presso la notte, Jessica non voleva arrendersi, convinta che sarebbe riuscita a ricreare la formula ormai sparsa sul pavimento. Ogni minuto che passava diventava sempre più stanca. Decise così che avrebbe continuato la sua ricerca il giorno seguente. Quella notte non riusciva ad addormentarsi, sentiva uno strano formicolio attraversarle il corpo. Decise di alzarsi dal letto per tranquillizzarsi. A quel punto notò di non essere sola. Quella notte anche Figaro non riusciva a dormire. Presa in braccio il gatto che cominciò a fare le fusa e a chiedere alla padrona carezza e attenzioni. Jessica nel tentativo di assecondare le richieste dell'animale iniziò a sentire una voce dolce, una voce che le chiedeva di essere accarezzato e coccolato con amore. La voce le mandò in confusione. Non riusciva a capire da dove e soprattutto da chi provenisse tale richiesta. Si alzò e si diresse verso la finestra, nel tentativo di scorgere qualcuna al di là di questa. Non vide nessuno, la voce intanto non si placava. Sono io, sono qui, ripeteva. Sentendo la voce dietro di sé si voltò per cercarne la fonte e notò in Figaro qualcosa di strano. La voce proveniva dal gatto che non mi aggolava come tutti i suoi simili, ma parlava muovendo le labbra con un umano vero e proprio. Figaro, parli? chiese la scienziata del tutto stranita. Sì, ma la vera sorpresa è che tu riesca a sentirmi e soprattutto a rispondermi. A quanto pare rovesciando la provetta ti sei trasformata nella prima cavia del tuo esperimento. Sembra che tu sia riuscita a creare una sostanza che raggiungesse lo scopo che desideravi. Ora sei in grado di comunicare con flora e fauna, terrestre, proprio come in passato riusciva a fare solo con gli animali. Ascoltate le parole del gatto, si diressa in cucina, aprì la finestra e si mise all'ascolto. Appena sporta dalla finestra, venne investita da un vociare calmo e pacato. Le piante e gli alberi attorno a lei parlavano tra loro, convinti e sicuri che nessun umano potesse sentirli. Jessica richiuse la finestra e finalmente si convinse del fatto che Figaro avesse ragione. Lei possedeva dei poteri che la rendevano unica e speciale. Una volta presa coscienza di questo fatto, cominciò a realizzare che la cosa migliore era dedicare se stessa al progetto iniziale di difendere la sua città, evitando di vendere la forma al migliore offerente per eliminare il rischio che essa potesse cadere nelle mani sbagliate. Il giorno seguente, ancora stranito dalla curiosa nottata trascorsa, si diressa in città per sbrigare le sue solite commissioni. Entrata in banca, si mise a fare la fila con altri suoi concittadini. Dopo pochi minuti, un uomo entrò dalla porta principale armato di pistola. Superata la fila, tra lo sgomento della gente si avvicinò al bancone ed estrasse l'arma. Si trattava di una rapina vera e propria. A gran voce e con gran fretta, il rapinatore cominciò a pretendere i soldi del cavò. Atterriti dalla paura, tutti si gettarono sul pavimento. Jessica, nel vedere questa scena, cominciò a pensare a come poter impedire questa ingiustizia. A un tratto sentì la voce di una pianta che era stata posizionata su una mensola che casualmente si trovava proprio al di sopra del rapinatore. Una volta messasi in contatto con lei, Jessica le chiese se gentilmente avesse potuto sporgersi un po'. Quel tanto che bastava per sbilanciarsi e cadere. La pianta obbedì, finendo proprio sulla testa del malfattore. L'uomo cadde a terra e a quel punto fu facile disarmarlo e restituire i soldi alla banca. La neoeroina, prontamente raccolta la pianta, la posò in un nuovo vaso, ringraziandola infinitamente per averla aiutata. In seguito alla scoperta dei suoi poteri, Jessica decise che la città di Cabiria doveva essere protetta da malfattori, ladri e assassini. Perciò prese l'identità di The Mutant Woman. Giurò solennamente di proteggere la città a costo della vita. Grazie a tutti.